Di Unibet ci siamo, è il momento clou dopo le amichevoli che hanno segnato l'estate del Napoli adesso c'è il preliminare, bisogna assolutamente battere il Nizza, si gioca in casa e quindi il risultato qual è? 1-1 base con gol, la speranza è quella proprio per chiudere, ipotecare la qualificazione allo stadio San Paolo e non prendere gol, quello che è successo anche in qualche amichevole degli azzurri, quindi cosa giocare? 1-1 fisso per la vittoria del Napoli al San Paolo con il Nizza, gol, gol del Napoli assolutamente e speriamo no-gol per la formazione di Balotelli, bisognerà stare attenti proprio a Super Mario ma il Napoli è molto concentrato perché sa che deve conquistare l'Europa che conta, i gironi ed è fondamentale. Sarri ha deciso la formazione, manca soltanto qualche piccolo tassello legato ad Alan Oziliski ma il brasiliano ha giocato molto bene in queste amichevoli pre-partita e quindi pensiamo giochi lui, qualche preoccupazione per Reina ma dovrebbe esserci, non ci sono allarmismi, Napoli che quindi deve battere, puoi scommetterci come di consueto lo diciamo, 1 base, gol del Napoli, unibet.it e forza Napoli!